Si mette qui a zero, quindi si pone nella base, poi ci mettiamo in condizioni di pedalata, insomma se abbiamo lo zainetto, l'acqua, tutte queste cose qua, le mettiamo sulla bici e saliamo sulla bici. Che cosa succede? Quando saliamo il nostro peso affonderà un po' sulla forcella, quella parte lì che affonderà sarà la quantità di sac, di solito si aggira intorno al 20%, il 20% si sta per dire, quindi 100, quindi a me mi dovrebbe scendere a 80, ok? Quindi io quando esco, scendo dalla bici, che cosa succede? Troverò questo qui due centimetri un po' più su. Il sag in quel modo è regolato al 20% del mio peso. Da lì abbiamo una reazione della forcella molto molto morbida e quindi nelle discese ti aiuterà tantissimo a copiare il terreno e tante altre cose. Il redband è un'altra cosa che agisce sulla parte idraulica. Qui abbiamo quella della parte, quindi, della cartuccia dell'aria. Qua invece c'è la parte idraulica che è dall'altra parte. Se vi faccio vedere il redband. Questo qua è una regolazione che si può mettere, e non so se qua è raffigurato, ci dovrebbe essere. No, qua no, una 12 posizione. Veloce e basso ti dice. Il redband cos'è? E' una regolazione che ci permette di regolare la parte idraulica all'interno di questa cartuccia e quindi va a regolare la velocità di salita della forcella. Quindi la discesa, ok ci siamo, l'abbiamo regolata con la parte dell'aria. La risalita della forcella la possiamo rallentare o aumentare la velocità di risalita dal redband. Tramite questo? Tramite questa regolazione qua. Quindi questo qua, voi direte a che cosa serve? Serve che nelle discese più sconnesse il redband è molto importante. Se noi lo regoliamo con una regolazione molto alta, quindi con un ritorno lento, la nostra forcella resterà sempre tra gli 80 e i 70 mm. Se il nostro redband sarà più alto, questa forcella rimbalzerà tantissimo. Si. Quindi ci terrà una guida molto fastidiosa. Si, troppo dinamica, forse. Ok. Ok. Io penso che non è un sport. Perché poi siamo andati troppo. Abbiamo retto tutto il gioco sulle discesioni. Naturalmente ragazzi, lo ricordiamo sempre, stiamo cercando di fare un discorso fruibile a tutto il mondo diciamo videoludico fondamentalmente di youtube accessibile accessibile a ormai a chiunque. Se dovessimo andare troppo nello specifico, anzi in questo video forse siamo andati veramente nello specifico in maniera più... però va benissimo perché naturalmente non si può parlare sempre in maniera semplicistica. Naturalmente ci sono anche altre dinamiche che possono intervenire e possono comunque far cambiare risalita, ammortizzazione, pneumatico, insomma l'abbiamo detto. Non possiamo stare qui ad elencarle tutte perché sennò uscirebbe un video di quattro ore. Quindi ragazzi, io come al solito vi ricordo sempre che stiamo facendo questo nuovo format e saremo in diretta sulle nostre live di Instagram. Quindi se vedete che tanto cambiamo inquadratura è perché stiamo fondamentalmente guardando anche le dirette sui telefoni. Ecco qua, voi qua se siete qua fondamentalmente. Quindi salutatevi. Ragazzi, io come al solito, un attimo dovevo giustare il telefono perché ho fatto danni. Come al solito ragazzi, io vi saluto, vi invito sempre a mettere un like e a seguirci sulle pagine Instagram e Facebook, in.sport.fit e mai di martedì mdm oppure sulle pagine personali che sono Meteo111 e Bromo. Ok? Detto questo ragazzi, io vi lascio un bel saluto e buon allenamento da InSport. e ci voglio in gambe. Ciao! 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 Ciao!